Ciao sono Enrico Lussolli, in questo video parliamo ancora una volta di cani e difesa personale, sono ancora con Demis Benedetti e questa volta parliamo di come difendersi se un cane ci aggredisce. Quindi questa è la domanda forse che i ragazzi mi hanno fatto di più in assoluto e quella per cui ho visto le risposte più assurde. C'è pieno di gente, se li avete sotto i commenti dei video, che suggeriscono di scappare, ma mi sembra di capire da quello che ci siamo detti l'altra volta che non è proprio questa gran genialata a mettersi in fuga, anche perché il cane va veloce di più dell'uomo. Esattamente. E quindi che cosa ha più senso fare se io vedo un cane che mi minaccia? La cosa più sbagliata appunto è scappare perché noi diventiamo la preda per il cane e più scappiamo più alziamo l'istinto del cane di rincorrerci e prenderci. Quindi la cosa principale che dobbiamo fare è bloccarci, fermarci. C'è quel cane che è equilibrato e riesce comunque a fermarsi, a bagliare magari girandoci attorno, ma non andando oltre. Magari quel cane che rischia anche di darci quella leggera appizzicata, ma non rischiamo di avere quel cane che ci butta per terra, ci aggredisce in modo pesante, ci vuole mordere fortemente. Questo se noi ci fermiamo. Se noi ci fermiamo, esatto. Le mani ha più senso tenerle vicine? Cioè farsi grandi ha senso? Secondo me è meglio invece cercare di rimanere fermi, stabili. Le mani non tenerle basse, ma tenerle pronte per un eventuale attacco e mettere comunque il braccio davanti alle zone vitali, che possono essere il collo o la faccia. Quindi proteggersi un attimo con il braccio. Meglio un bello sgagnotto sul braccio che ha la gola. Nel caso in cui facciamo la peggio, abbiamo sbagliato tutto questo, ci riesce a mordere. Dove è meglio colpire il cane? Perché insomma questo caspita, magari un cane a randaggio è cattivo e io non voglio morire. Dove è meglio che colpisca? Cioè serve colpire innanzitutto per fermare l'altro? È meglio anche in questo caso stare fermi, fargli due carezze e vedere se si calma? No, quello no. Se ci si trova davanti a un cane che è da solo, senza proprietario, lì bisogna difendersi in qualche modo. Meglio la mia vita che la sua. Bisogna cercare di, se il cane è attaccato al braccio, dare un calcio, prenderlo sotto la pancia o sulla gola, dove sono le parti più sensibili del cane. E lì il cane nel momento in cui creiamo veramente un dolore, il cane in teoria si dovrebbe bloccare e fermare. Poi se abbiamo la sfortuna di inceppare in quel cane con una tempra fortissima, gli diventa ancora un po' più difficile da gestire la cosa. Però è sempre meglio proteggersi con le braccia davanti, ma muoverle velocemente. Lui le vede come un bersaglio se ti agiti fondamentalmente. Quindi diciamo che mantenere la calma è fondamentale, ma anche in un'aggressione normale lo è. Cioè nel senso, se mi agito do comunque l'impressione sbagliata a chi guarda, perché anche l'uomo alla fine risponde a delle istintualità. Io vedo che l'altro è molto remissivo e quindi mi scatena ancora di più l'aggressività. È una cosa che succede spesso anche nel bullismo. Certo. Il fatto dell'altro continua ad andare indietro, allora io mi sento più grosso e vado in avanti. Quindi diciamo, giusto per dare il quadro della situazione, fermi, non agitare le mani, se proprio usare le braccia per proteggersi. La cosa migliore sarebbe avere la fortuna di avere qualcosa in mano, tipo un oggetto, un bastone, una corda, un qualsiasi cosa, in modo tale che nel momento in cui vediamo che il cane fa per attaccarci, gliela mettiamo davanti, il cane morde la prima cosa che si trova davanti. Ok, quindi gli creiamo diciamo un diversivo in modo che lui abbia da prendere quello e si concede. Ma anche la giacca può essere usata, cioè se vedo, mi tolgo la giacca e la uso per fargli mordere qualcosa può essere un'idea. Esattamente, è un oggetto che usiamo proprio per cercare di deviare la sua attenzione su qualcos'altro e non su di me. È meglio che mi arrotola la giacca sulla manica così mi faccio mordere me, ma forse c'è il pericolo anche che i denti entrino, oppure che tengo la giacca libera e che piuttosto gli faccio mordere la giacca. Alcuni dicono di colpirlo sul naso il cane, ha senso? È una cosa che è meglio stare sulla gola? Esatto, pancia e gola sono le parti più sensibili. Il naso si è sensibile, ma non così tanto come la pancia e la gola. Ah ok, questo è molto interessante, perché ho visto tanti nei commenti dicendo dai un pugno sul naso, probabilmente è più un luogo comune. Esatto, la parte bassa dell'addome qua è la parte più sensibile. E una cosa importante nel momento in cui abbiamo uno strumento che ci permette di spostare l'attenzione del cane e non farci mordere è quello di non andare indietro e arretrarre, perché così diamo ancora più forza al cane di venirci contro, ma con movimenti sicuri cercare di andare verso di lui e cercare di spingerlo indietro. Ti faccio la domanda che è una domanda un po' sciocca, però ci proviamo lo stesso, perché me la fanno a me sempre con gli umani, ma me l'hanno fatta anche sui cani. Cioè se sono in mille, se sono in branco, io dico di solito che se sono in tanti, dovevi accorgertene prima, cioè quando sei arrivato lì, cioè anche un po' la tua ora, è Darwin, non possiamo vivere tutti, però scherzi a parte. Se sono tanti i cani funziona ancora questa cosa? È un po' più difficile lì, perché già due cani messi assieme formano un branco. Un cane lo riesce a gestire perché comunque nel momento in cui ti vede fermo è da solo e non ha nessun altro che gli dà forza. Già due cani assieme si danno forza uno con l'altro e quindi anche vedendoti fermo potrebbero attaccarti. E poi la parte ancora più difficile arriva quando ti devi difendere. Capisci uno, ti sgagna l'altro. Esatto, esatto. Come consiglio così, anche parlo spesso degli spray al peperoncino, comunque quegli spray urticanti, ce ne sono di vario tipo. Adesso prossimamente uscirà anche un nostro video in cui stiamo recensendo delle pistole proprio per la difesa personale con lo spray al peperoncino. E sicuramente, insomma, nel caso ci fossero tanti cani, quello potrebbe essere un aiuto. Però anche lì devi tenere in considerazione che quando sei preso nell'azione di difesa devi avere veramente la prontezza di poterti difendere da tutti i cani perché... Se sono in tanti, insomma, ti è andata male, ci provi la prossima vita. Esatto. Grazie mille per tutte le informazioni, davvero è stato molto utile. Grazie a voi. Grazie a voi.